Cos'è questo? Cos'è quello che ho raccolto in giro? Sto disfruttando dalla porta, sentendo la porta, e questo è quello che avete raccolto l'inizio dell'arrivo 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 dell'arrivo. C'è la botte con cui hanno pulito i bottini? Sì, no, qui perché non lo scaricava e si era allagata la cadenzia. Come vedo sversare nel fiume? In genere, quando piove, sversa Pogno, va bene. Ah, perché uscivano diversamente, hanno l'uso. Ah, qui si era allagata? Sì, si era allagata. Qui non si problema, se non c'è soluzione. Ma di là invece c'è stato qualche eccedimento? Questa è la base delle ponte. L'arrivo dell'arrivo 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 dell'arrivo. Tant'è stato un argomento. Aggiungere il terzo italiano. poi non ci sonopperi le ponte. Grazie.